Musica Da Giulio del Fiorentino e Marco Cervelli in regia, ben trovati, la nostra rassegna con le notizie dalle province della Toscana, partiamo da Siena dove ieri sera è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8 tante persone hanno preferito dormire in macchina, dopo la scossa di terremoto nell'immediato non sono stati registrati feriti né sono emersi danni a infrastrutture viarie né rete di distribuzione di pubblici servizi e strutture sanitarie lo spiega la prefettura di Siena e la storia della sismicità di Siena affonda le proprie radici veramente nel passato un evento in linea con le caratteristiche sismiche della zona, detto il sismologo Carlo Meletti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Siena, è la città che per motivi storici ha la più lunga storia sismica documentata la prima testimonianza risale al 1320 era accusato di 50 incendi dolosi scoppiati tra Marina e Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto nell'arco di un anno dal 2016 al 17 il tribunale lo ha condannato a 9 anni di reclusione si tratta di un 63enne operaio in pensione ritenuto responsabile dei roghi che avevano causato danni ingenti all'ambiente ma anche grosso rischio per le persone il 63enne avrebbe lanciato gli inneschi mentre alla guida del camion con il quale all'epoca si recava al lavoro in due di questi inneschi gli specialisti erano riusciti a isolare il suo DNA i ricorsi al TAR della Toscana relativi alle sanzioni disciplinari a medici e militari Novax alla scadenza delle concessioni per gli stabilimenti balneari saranno definiti entro il 2023 in assenza di nuovi provvedimenti governativi è emerso oggi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e amministrativo a Firenze le cause riguardanti i balneari sono circa 140 ma è possibile uno slittamento sono invece 50 le cause riguardanti medici e militari Novax che hanno subito al momento un danno osserva il TAR perché sono stati sospesi dal lavoro ed è stato decurtato loro lo stipendio dunque la loro richiesta di decisione è comprensibile promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano significa dare spazio a una nuova generazione perché sia capace di innovare la proposta del terzo settore deve essere veramente nuova e la sua capacità di radicamento nel territorio e nelle comunità territoriali devono facilitare il ricambio generazionale sono gli obiettivi del bando siete presente con i giovani per ripartire realizzato da Cesvot finanziato dalla regione toscana Giovani Si con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di Pistoia e Pescia Fondazione Pisa Fondazione Livorno Monte dei Paschi di Siena Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara di Prato di San Mignato di Volterra oltre alla Fondazione Banca del Monte di Lucca Lastre di Amianto per un totale di 1290 kg sono state rimosse da una zona boschiva orentano nel comune di Castelfranco di Sotto materiale pericoloso altamente inquinante nel bosco della Toppa nella via che collega Galleno ad Orentano l'operazione di rimozione è stata effettuata da una ditta specializzata voluta e totalmente finanziata dal comune di Castelfranco di Sotto un intervento necessario ma molto impegnativo per aspetti organizzativi e formali ha spiegato il sindaco Gabriele Totti siamo però felici di essere arrivati a rimuovere oltre una tonnellata di materiale pericoloso abbandonato in un bosco è tutto per la nostra rassegna delle province della Toscana tra poco o dopo la pubblicità il TG Noi grazie a tutti